Ganges Casma si trova nella zona nord-est di Valis Marineris e si apre in un canale di sbocco che fluisce verso nord. Le colline sparse sul fondo del canyon potrebbero essere i resti del terreno caotico che si formò con il collasso del canyon. Parte del letto roccioso presenta colorazioni differenti. Grazie a tutti.